Dibattiti con le scuole, presentazione di libri sulla sana e corretta alimentazione, show cooking con cuochi gourmet e chef stellati ed incontri con i produttori eccellenti della nostra terra. Questo e tanto altro è stato I Cibi Raccontano, una manifestazione nazionale promossa da grandi chef con Francesco De Rosa che per la sua tappa conclusiva ha trovato un partner d'eccezione nell'Università Partenope. Nel corso delle due mattine di studi gli studenti degli istituti alberghieri della Campania si sono potuti confrontare con professori, imprenditori, chef, nutrizionisti che hanno portato le loro testimonianze. L'Università Partenope ha anche presentato il nuovo corso di studi in amministrazione, finanza e consulenza aziendale Food, Art and Fashion, destinato a diventare una grande novità nel settore della gestione economica di imprese gastronomiche. Sono stati proprio gli imprenditori presenti che hanno deciso di mettere a disposizione due borse di studio per gli studenti meritevoli che intraprenderanno questo nuovo percorso. Un momento molto particolare lo hanno regalato gli chef stellati quando hanno incantato gli ospiti con dei live cooking realizzati sulle terrazze di Villadoria. L'iniziativa rientra tra le attività di terza missione di valorizzazione della storica Villadoria che l'Università Partenope porta avanti da anni.